io ho una volta che perché non si può imparare solo facendo tu devi sentirsi perché altra volta quando tu si trovi in situazione quando avversario parà magari per te non sei simile tu sai che ho capito ah sì ma non capito se non ho capito io non voglio vedi io non devo per niente ci passare l'ecchia te super adesso non è unirei cosa con gandari prima devi uscire fuori Adesso tu puoi cambiarmi un po' di là, vedi come io mi metto, tu inserisci su destra, gamba destra, polso destro di gamba, non ricordo, questa parte non ricordo, qui alza il mio ginocchio, prendi il mio polso, e inserisci il tuo ginocchio, dai ecco ecco, da qua, alza bene mia gamba, e questo va profondo, vedi, adesso hai capito come funziona, vedi sono chiuso, invece prendi la gamba, prendi, e guarda, tu devi andare sotto di me, invece il ginocchio devi chiedere di me, ah, però non, io adesso ti mostrerò, in realtà io posso andare anche da qua, tieni più attaccino che si mostruna, il mio gloria ritoria da qui, ok, di lui io si è alto si è alto la ciano si è giocato per i angoli alzai per te dai un calcio dai un calcio mentre ho messo ho messo questo si ma ancora ancora non c'è stop stop eh si stop ok 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 si ok 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 hai la gamba a terra qui per non permettere scappare se lo devo fare ma ancora un po' ok 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 quindi ok ragazzi ok ha Sì No, no. Io vedo come fa, questa cosa, guarda, così, così, e così, questa braccia sta tirando, guarda, tira, qui tira, vedi? Wow! E poi con questo, trovare a, a tenere duro qua, è giusto così, a tenere proprio di pantaloni, si, puoi usare, come ristrettimento posate. Allora, devo provare di nuovo quella tecnica, di gambe tutte. Ultimo se l'hai fatta. Adesso. Così. qui deve avvicinarsi con due braccia al mio corpo questo ricordo solo questo avvicinati bene avvicinati bene adesso controlla me vedi qua tiro un po' la gamba spingi un po' con la gamba oh vedi io sono in spagata io voglio stringermi e tu mi allungo oh questo oi deve girarci un po' di là oi oi adesso provo a in Sibili stagano 100 100 100 gamba 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 q devi controllare con la gamba, non permette di tirare l'escapo, vedi? e anche devi girare di là, molto più e adesso tira bene, aspetta, non si tira bene la gamba con due braccia, oh vedi? così non mi piace cosa che tu non riesci a... si, vieni ancora qui vieni ancora qui con braccia, gamba destra con gamba destra con gamba destra sinistra o destra? non sta hop sono qui vedi? 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 io posso spindirte, ricordo io posso spindirte, controlando, vedi? 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 ti pare che si fai da un controllo vedi?